Benvenuti! In questo video vi mostrerò alcune fotografie che vi spiegheranno il procedimento utilizzato per preparare questa torta taxi. Questo modello, la Hyundai i20, ha delle dimensioni reali di 4 metri per 1,71 per 1,50. Mantenendo le proporzioni, ho deciso di riprodurre una lunghezza di circa 30 cm. Ho quindi utilizzato una teglia 35x25 cm, preparato il pan di spagna al cacao, seguendo la ricetta che troverete sul sito www.ricettalasminute.com. Variando la ricetta e utilizzando 9 uova. Ho poi farcito con crema diplomatica, formata da crema pasticcera e panna montata, anche questa ricetta la troverete sul sito, e creato 3 alti strati bagnati con latte e cacao zuccherato. Affinché si possa decorare senza problemi, è necessario creare una solida base. Ho quindi deciso di ricoprire il tutto con uno strato di crema al burro. La pasta di zucchero utilizzata si può facilmente preparare in casa, e infatti a fine video troverete il link per guardare la videoricetta. Ho ben pensato inoltre di utilizzare i ritagli di pan di spagna, creando dei simpatici trolley, con sopra gli anni del festeggiato. Realizzarli è semplice, basta unire i pezzi rimasti con la marmellata, ricoprire il tutto con crema al burro e rivestire con la pasta di zucchero colorata. Su carta create dei modelli di fari, finestrini e altri dettagli, mantenendo quanto più possibile le proporzioni. Inoltre, col pennarello alimentare o con un pennello a punta fine e del colorante in gel, ultimate il lavoro con le ultime rifiniture. Ed ecco la torta pronta! Adesso vi saluto, al prossimo video, ciao! 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 Ciao!